Il corso Employee Retention, strategie per trattenere i talenti in azienda, offre strumenti concreti per sviluppare una strategia efficace di retention, riducendo i costi di turnover e garantendo continuità operativa. Promuove il benessere e il coinvolgimento dei dipendenti, favorendo un ambiente di lavoro positivo e produttivo. L'approccio mira a consolidare i talenti già presenti in azienda, migliorando la soddisfazione e rafforzando la reputazione aziendale, essenziale per attrarre i migliori professionisti sul mercato. Il corso si concentra su interventi organizzativi mirati, sia formali che non formali, per massimizzare il People Commitment. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale, nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.